ben trovati sono enza castelluzzo psicologa psicoterapeuta e collaboratrice del progetto empowering women di business oggi con me c'è lara tumino medico psichiatra e specializzata in psicoterapia innanzitutto lara ti voglio ringraziare per essere qui con me per aver accettato l'invito a condividerci un pochino la tua esperienza in questo momento di emergenza covid 19 in questo momento e che tipologia di lavoro stai svolgendo allora intanto colgo l'occasione per ringraziare te e gli organizzatori di questo bel progetto credo che sia realmente una bella iniziativa nel progetto e quindi bene sono molto contenta allora io in questo momento mi trovo a bergamo lavoro presso l'azienda ospedaliera papa giovanni ventitresimo quindi un po al centro di degli ultimi accadimenti insomma relativi al covid 19 e lavoro da inizio di febbraio presso presso l'azienda e quindi praticamente quasi all'inizio della di quella che poi in realtà appunto è stata definita dall'oms è una pandemia quindi sì come è cambiato il tuo lavoro rispetto all'emergenza attuale ok allora io come hai ben detto sono medico psichiatra e in questo momento ci siamo trovati un po sprovvisti di personale medico per cui noi medici seppur su base volontaria ci siamo trovati ad essere riconvertiti e quindi a lavorare con i pazienti infetti nei reparti covid i reparti sono stati riorganizzati totalmente quindi i reparti di gastroenterologia ematologia chirurgia medicina sono in realtà diventati reparti tutti uguali in cui la tipologia di pazienti era tendenzialmente unica ovvero persone che hanno contratto l'infezione da covid 19 ogni reparto era divisa in una parte sporca e in una parte pulita la parte sporca era è stata è perché ancora ci sono questi reparti aperti la parte in cui sono presenti i pazienti e la parte in cui il personale medico accede bardandosi ovvero utilizzando tutti i presidi di sicurezza la parte pulita invece non richiede l'utilizzo dei presidi di sicurezza se non la mascherina la cuffietta ed eventualmente i calzari e prevede invece tutta la tutto l'aspetto tra virgolette più burocratico quindi la scrittura di cartelle chiamare gli specialisti chiedere le consulenze aggiornare i parametri dei pazienti io mi sono trovata ad essere sul pulito perché insomma per quanto siamo siamo medici in qualche modo poi con la specializzazione ci specializziamo in una sola branca per cui può capitare di perdere il contatto con aspetti più prettamente medici a maggior ragione per me psichiatra e quindi mi sono sentita di offrire il mio aiuto su base volontaria però stando sul pulito e diciamo che il mio lavoro è diventato più più clinico chiaramente più vicino ad a degli aspetti che per me erano ormai molto lontani perché si parlava di presidi respiratori di pressioni di parametri da aggiustare di concomitanti patologie di terapie farmacologiche prettamente mediche quindi sicuramente è cambiato il lavoro in questo senso proprio in termini di disciplina di base con cui avere a che fare quindi diciamo che più un lavoro medico che psichiatrico allora il lavoro psichiatrico è sicuramente un lavoro clinico che però richiede alla base del colloquio clinico psichiatrico c'è l'alleanza terapeutica che stabilisci parlando col paziente ponendoti in una posizione empatica con questo tipo di pazienti invece chiaramente permane la posizione empatica ci mancherebbe però è diventato come dire un lavoro clinico in cui c'è stato c'era il rapporto col paziente però non c'era l'approfondimento ad esempio di tutta la sua storia clinica di tutti gli aspetti anamnestici di tutte le esperienze di vita quindi una raccolta anamnestica sicuramente molto diversa se noi a psichiatria ma così anche durante il colloquio di psicologia tendiamo ad approfondire degli aspetti di vita personale che ci sono utili per capire come si è strutturata la personalità del soggetto quali eventi traumatici ha vissuto quali esperienze positive o negative ha fatto in questo senso quando si lavora con branche passami il termine più prettamente mediche questo approfondimento non dico che non viene fatto però sicuramente non è primario se io ho un paziente che ha un'ipertensione piuttosto che il diabete diciamo che le esperienze di vita possono anche non essere utili quindi nel senso possono chiaramente aiutare a stabilire un'alleanza terapeutica a creare un rapporto di fiducia ma di fatto non sono incidenti sull'insorgenza di una determinata patologia quindi è molto diverso il rapporto psichiatra-paziente e qualsiasi altra specialistica medica-paziente quindi sicuramente cambia cambia la tipologia di pazienti cambia la tipologia di approccio assolutamente Senti Lara, tu svolgi una professione che nell'immaginario collettivo è tipicamente attribuita ad una figura maschile come credi che una donna possa dare un contributo diverso nell'ambito medico-psichiatrico? Ok, questa è una domanda interessante al quale non credo di saperti rispondere in maniera esaustiva però io mi sono fatta la mia idea ovvero intanto devo dire che la medicina è sempre più donna sempre di più nei corsi di laurea ma anche il reparto ci si rende conto della netta prevalenza del sesso femminile rispetto a quello maschile e stanno anche cambiando un po' alcuni aspetti della medicina tanto che si parla di medicina di genere nel senso che anche quando io ho studiato medicina tutto era calibrato sull'uomo di un metro e settanta per settanta chili che funzionava in un certo modo invece oggigiorno ci sono sempre più ricerche sempre diciamo più approfondimenti rispetto al fatto che l'organismo maschile e l'organismo femminile hanno delle caratteristiche completamente diverse quindi sicuramente nella medicina la figura della donna è estremamente rivalutata rispetto invece al ruolo che ricopriamo quindi di medici probabilmente le donne sono più predisposte a studiare tanto tempo probabilmente hanno più pazienza nell'approfondire alcuni aspetti che comunque richiedono pazienza probabilmente sono anche più capaci di aspettare una soddisfazione in termini economici e anche chiaramente in termini personali che arriva dopo diverso tempo probabilmente non lo so non so se è una generalizzazione nell'immaginario comune l'uomo deve immediatamente effettuare un lavoro fonte di guadagno nel più breve tempo possibile forse la donna rispetto a questo aspetto è un po' più paziente chissà e poi l'idea che mi sono fatta è il prendersi cura forse da un punto di vista proprio filogenetico la donna in qualche modo è predisposta a prendersi cura di si prende cura dei figli si prende cura della casa si prende cura del contesto familiare quindi probabilmente anche il prendersi cura di un malato forse è un'attitudine che sviluppano più le donne o che hanno forse più insito il prendersi cura forse è più insito alle donne per ragioni proprio di istintualità di programmazione di ruolo quindi probabilmente insomma è questa la ragione ecco poi chissà chissà sicuramente però ti posso dire che io ho lavorato in un reparto emato covid e a parte due specializzanti e un medico strutturato poi di fatto eravamo tutte donne tutte 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 donne quindi è un aspetto abbastanza interessante così come nel mio reparto a psichiatria ci sono due uomini ma poi siamo tutte donne e peraltro ci sono anche tantissime donne che rivestono dei ruoli anche di dirigenza quindi questo è un altro aspetto abbastanza importante perché se prima la dirigenza era di stretta pertinenza degli uomini ci rendiamo conto che le cose stanno profondamente cambiando e penso che sia un bene in qualche modo poi se si può raggiungere un livello di parità e un livello di integrazione sempre che ben venga insomma Eh sì, elementi interessanti come dici tu da tenere in considerazione Sì, sì Vorresti mandare un messaggio a chi ci ascolta? Allora, un messaggio di che genere? Relativamente all'infezione da covid o relativamente alla medicina in generale? Dimmi tu Come la prevenisci? Possiamo partire dall'emergenza attuale e poi se ti va anche in senso largo? Ok, allora posso dire che l'emergenza covid ha segnato tutti profondamente per cui io stessa quando l'emergenza diciamo si è verificata all'inizio io ero ancora nel reparto di psichiatria e vedevo il tutto con un pochettino di distanza nel senso che ti rendi conto che c'è una situazione di emergenza che le strade si svuotano che la gente diviene apprensiva in televisione chiaramente ascolti le notizie quindi hai un'idea di quello che sta accadendo in realtà nel momento stesso in cui vai in un reparto covid soprattutto all'inizio sembrava forse non va bene come termine però in realtà a me è sembrato è sembrato un'area di guerra un campo di guerra in cui questi reparti hanno completamente perso la loro caratterizzazione per diventare dei reparti standardizzati con gli stessi strumenti con le stesse tipologie di pazienti e quello di cui mi sono resa conto è stato lo stress degli operatori financo io che in qualche modo sono un po' non dico abituata però in qualche modo la professione medica ti porta un pochettino a gestire anche dei livelli di stress elevati ho accusato un pochettino il colpo e allora quello che mi sento di dire è di continuare in qualche modo ad essere responsabili nel senso che probabilmente chi è stato fuori non si è reso conto perfettamente della gravità realmente del problema quindi quello che mi sento esclusivamente di dire anche alle porte della riapertura è che va bene lo spostamento va bene andare a lavorare va bene andare a trovare gli affetti però farlo sempre consapevolmente quindi sempre adottare le distanze di sicurezza sempre qualora possibile utilizzare i DPI cercare di evitare gli assembramenti il più possibile rimandare le feste capisco che è un momento duro per tutti tutti vorremmo scendere per strada io stessa che sono a Bergamo vorrei poter prendere un aereo per salutare per andare a salutare la mia famiglia però queste cose si potranno fare e allora visto che in qualche modo ancora questo virus si comincia a conoscere ma non si conosce a 360 gradi ritengo che la prevenzione sia importante e anche l'attuazione di misure consapevoli ogni persona consapevolmente deve adottare le proprie misure di sicurezza per proteggersi e per proteggere gli altri quindi il messaggio che mi sento di dare è un messaggio di resilienza e anche di maturità ecco bisogna in termini transazionali bisogna essere adulti in questa fase senza far prevare senza che insomma i bisogni o i desideri o le esigenze che sono un po' fuori dal mondo superino invece un'integrazione di appunto consapevolezza nel cui è ora riguardo invece all'aspetto medico l'unica cosa che mi sento di dire è che quando all'inizio si parlava di personale medico infermieristico socio-sanitario come eroi ecco quello che mi sento di dire è che non siamo eroi abbiamo svolto il nostro lavoro con dedizione perché sappiamo e si è sempre detto che fare il medico è un po' una missione non si fa per soldi e si fa solo realmente per passione perché si ha una spinta nei confronti dell'altro quindi non siamo assolutamente eroi e il messaggio che invece mi piacerebbe passare è che siamo persone siamo persone abbiamo le nostre debolezze abbiamo la nostra emotività abbiamo i nostri bisogni i nostri desideri sbagliamo quindi quindi quello che mi aspetto nel futuro non è essere considerato un'eroina sinceramente non mi interessa niente mi piacerebbe non essere considerata un essere infallibile perché sbagliamo grazie Lara grazie a te da parte del team di Empowering Women grazie a voi alla prossima alla prossima speriamo presto grazie mille grazie a te grazie a te